Ciao a tutti, quanto tradisce il segno dell'acquario? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Allora, il segno dell'acquario è normalmente un segno abbastanza fedele, ma talvolta, diciamo, si lascia un po' trascinare dall'indole libertina per esplorare tutto quello che non conosce, fare esperienze nuove, quindi la fedeltà è se ha a che fare con una persona che si manifesta, diciamo, sempre, che gli dà sempre novità, altrimenti un po' l'indole libertina c'è e il tradimento lo fa anche per fare nuove esperienze, per crescere. Se si lega e decide di avere una storia seria, lo fa, ma non rinuncia facilmente alla sua libertà. Se decide proprio di avere proprio una relazione, diciamo, stabile, allora cerca di forzarsi e di mantenere la fedeltà. Però l'indole, diciamo, non è poi proprio quella. Urano è il pianeta che lo governa, è il pianeta del cambiamento, e quindi lo rende soprattutto anche soggetto a veloci mutamenti, a veloci cambi di idee. Talvolta il tradimento sono dei flirt che non passano, diciamo, dal lato fisico, ma magari, ad esempio, si manifestano solo su un lato virtuale, però, diciamo, che lasciano un po' in, come dire, in dubbio i partner del segno dell'acquario. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!